L'azienda farmaceutica Selgin ha dato l'opportunità ad un gruppo di giornalisti italiani di conoscere la sua sede europea a Baudry in Svizzera. In questa occasione abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Marie-France Chudin, vicepresidente dell'oncomatologia a livello europeo di Selgin. Allora dottoressa, vorrei che ci raccontasse innanzitutto un po' la storia di questa azienda, perché tutto è partito dalla talidomide, un farmaco sviluppato da un'altra società e utilizzato nelle donne in gravidanza per prevenire la nausea e il vomito, ma purtroppo noto per i suoi effetti teratogeni. Ecco, a questo farmaco Selgin però ha dato una seconda vita. Come è andata questa storia? La storia di Selgin ha cominciato un poco prima. Selgin faceva parte di un'azienda di chimici, di prodotti chimici, e poi nel 1986 è diventata un'azienda farmaceutica. La storia con talidomide è stata un po' per caso, che una dottoressa ha presentato dei dati molto interessanti al management di Selgin in quell'epoca e quindi loro sono stati veramente molto eccitati da questi dati e erano convinti che in quel momento una talidomide, che veramente era il prodotto tabù dell'industria, una cosa che non si poteva immaginare, hanno ripreso questo prodotto e volevano portarlo a un'approvazione regulatoria. La realtà è che la talidomide, che certamente non serviva per l'uso dell'origine, ha avuto dei effetti molto potenti su certe malattie, come la laprose, come per esempio anche è stato studiato nell'AIDS e dopo nel mioloma multiple, dove veramente è stato il primo avanzo dopo 40 anni di niente. Dopo la talidomide, quali altri farmaci sono stati sviluppati da Selgin in ambito ematologico? Quali sono i successori della talidomide? Quindi ovviamente la prima cosa che l'azienda voleva fare è cercare una talidomide che non aveva tutti o tutta la connotazione, tutti gli effetti adversi della talidomide. Quindi ci siamo, veramente abbiamo lavorato nell'ambito del mieloma e abbiamo portato due farmaci, quindi la lenalidomide e la pomalidomide, a questi pazienti. La lenalidomide è un prodotto, certamente il prodotto più importante che Selgin ha portato ai pazienti al mercato e dove abbiamo visto veramente dei risultati impressionanti e veramente ha portato, diciamo, una sopravvivenza molto più impattante ai pazienti con mieloma multiple. Se noi pensiamo che prima, dal 2000 o dal 2005, un paziente aveva meno di un 30% di probabilità di essere vivo a 5 anni, oggi stiamo parlando più del 50% dei pazienti che sono vivi dopo 5 anni. Il nostro obiettivo veramente aspirazionale è di portare l'80% dei pazienti con un mieloma multiple vivi a 5 anni. E questo vorrà dire per forza che qualche paziente saranno curati. Questa è veramente la nostra visione nel mieloma multiple. La lenalidomide, come diceva prima, non è l'unico successore della talidomide sviluppato da Selgin, ma c'è anche la pomalidomide. Noi abbiamo un gruppo, quindi noi continuiamo ad essere molto credenti nei IMIDS, in questi prodotti che veramente hanno una funzione di cambiare il sistema immunologico. Quindi abbiamo anche la pomalidomide e abbiamo altri prodotti che sono in ricerca, più precoce e in altre indicazioni. Selgin non è impegnato solo in ambito ematologico, ma ha anche farmaci per i tumori solidi. Quali sono questi farmaci? Noi siamo attivi anche nei tumori solidi, quindi abbiamo un NAPA Clitaxel, dove abbiamo un'indicazione nel cancro della mammella, abbiamo un'indicazione anche nel pancreas, che è un tumore dove purtroppo non ci sono stati molti avanzamenti in tanti tanti anni. E adesso abbiamo anche quest'anno ricevuto l'indicazione o l'approvazione a livello dell'Europa per il cancro del polmone. Sempre parlando di ematologia e oncologia, dove state puntando? Dove sta puntando Selgin? Noi abbiamo tre aree di concentrazione. Vogliamo soprattutto sviluppare il nostro pipeline di IMIDS, quindi lavorando su il bilancio delle proteine. Abbiamo anche un altro programma di sviluppo nell'area dell'epigenetica, dove questo programma guarda la mutazione o l'attivazione di certi geni e l'influenza che può avere su certe malattie. Quindi abbiamo tutto un programma lì e ovviamente anche Selgin vuole essere molto presente nella immunoncologia. Quindi abbiamo non solo dei prodotti nel nostro R&D, però anche delle collaborazioni molto recenti con diverse compagnie per sviluppare farmaci in questo ambito. Ecco, proprio parlando di questo, la strategia di business di Selgin prevede anche la collaborazione con altre aziende e gruppi di ricerca. Qual è il segreto di una partnership di successo? Questo è un modello molto interessante che ha Selgin. Quindi Selgin è vero che ha molte collaborazioni con altre aziende, non sempre opportuniste. Quello che succede è che i nostri ricercatori quando vedono una cosa interessante, quando vedono qualcosa che può essere innovativa o un modo diverso di vedere il trattamento di una malattia, noi facciamo un accordo con quella compagnia, però senza poi avere un ruolo predominante. Noi lasciamo queste aziende, che sono piccole, che hanno anche un spirito di innovazione, le lasciamo fare il loro sviluppo da soli. E poi a un certo punto si decide, andiamo avanti, continuiamo questa collaborazione o no. Questo fino adesso ha portato due farmaci in fase 3, quindi abbiamo adesso un prodotto per le leucemie acute in fase 3 in Europa e abbiamo anche un altro prodotto per le bette talassemia, che è anche di molto interesse in Italia, che stanno in fase 3 in questo momento. Quindi penso che è un modello interessante perché da un lato le aziende sono molto interessate a lavorare con noi perché lasciamo questa libertà, però dall'altra parte è una cosa che per noi ha funzionato fino adesso molto bene.